Plastic Free in Valle dei Mocconi, Plastic Free a Sant'Orsola Terme con le associazioni, il cuore vero dei paesi delle vallate, associazioni che ci hanno aiutato ad ottenere questo importante risultato, quindi con il paese vivo, una comunità viva, proprio per rendere questa sinergia verso l'esterno anche della territorialità, perché noi crediamo che un ambiente pulito, un ambiente senza plastica, anche verso l'esterno sia importante per un'attrattività proprio turistica, culturale e proprio anche di educazione civica, quindi bene, bene Plastic Free, per i prossimi appuntamenti vedremo di ovviamente inoltrare qualche novità proprio per incrementare il nostro giudizio per una visione più ampia in sostanza verso dei territori anche esterni al nostro.